Tocca aprirla eh Vai Ma che bet Olè Gran coglione Tutto un petto Motiro Zambrotta Sai di chair baby Dice il prime Ermid Quanto sta 150.000 200.000 Zambrotta baby Sono Veramente 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 Molto contento Di questo Di questa icona Ma tanto Ma tanto Ma assurdo Ho dispiaciuto Per niente Vediamo questa icon mid Mid ripetibile Che comunque Non è A quel prezzo è buona Pensi e picca 700 Bello Ragazzi e biz Arrivo subito Dove venga apri subito Fra grazie e biz Porco Il dock mid Arriva da sto punto Del gioco Insomma Cioè inizio gioco C'è sta 300 Costa Quanto Il builder Poi Ciao Viva la Fasa L'altra sera Bella crepa Devo dire Ma che sta Appiccicata Mi stava a piacere Uh Non è possibile Non è possibile Che ne ha dato un altro Non ho mai visto Tu Zambrotta Nello stesso blocco De 20 con aperte Oggi Tu Zambrotta Mid Ripetibile Bella Anculata sto Ripetibile E prendo Cantè Cruif Prime Volendo Potresti Fa Sì Grazie e biz È grande Complimento Via la Fasa Grandissimo Complimento Continua a giocare Offstream Mostra attiva Tre orette e mezza De gioco Ma lo sai che Prima di andare a dormire Mezz'oretta Un'oretta Così Ce sta Però è un po' Ripetitivo Cioè nel senso Fai sempre la stessa Cosa Catturi Vita dietro Lotti È un po' Tanto Ripetitivo Cioè nel senso Perché poi Devi avanzare Col D No vabbè C'è Credo Por Vabbè Regà Ma io Cioè Ma che Ma che Ma un po' Cioè Veramente Se mid Mo vabbè Ripetibili Costano 300k Però So Proprio Pensa a chi Ci ha messo Boh 6-7 mila euro De FIFA Poi Se ne ha trovato uno Ma Mi spiega Oh ma Ha sagratato la pippa Ma so Orribili So Cioè 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 La fine Ci avrò messo 140 mila FIFA points Mi ha dato Cancelo Poi ci Mi ha dato un altro Nivremi Poi mi ha dato un altro Non scambiabile Però Futurstar Magari questo è il design Me li coglioni Carino Beh Buono Zanetti Icona media Vai Che poi se non aprivo Le stelle 86 Più Col cazzo Che ho trovato Per Todi E' quelle che c'ha Nel drop più alto Ovviamente Se no Trovi col cazzo Io faccio Ligono O cacao Ligono Costa 300 Cosa Costa 7-8 Ma io sto a vedere Delle robe Non so quanti Terzini Ma Mamma mia Ermid De goal Sta peggio Ermid De zanbrotta Vada Grazie per Prem E benvenuto Questo Quanto Sa 100k Grande Goal Ma che si aspetta Per Premio Team of the week Babbo Natale Vabbè Best No Best Non penso Però Magari In team Of the week Decento Entro 2-3 Settimane Devo Cacciano Sono contento Spoh Grazie a Bizz Io ho appena Trovo Cruif Apri morte E vedo Coso alto E tu Buono 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 Ermid Ma Quanti Mid Ma tutte Le mid Che stiamo Trovando Ho peggio Delle baby Ed ho peggio Zanbrotta Peggio Col Peggio Zanet Mi dispiace E Buono Sì Lea Aspetta Pensa Quanta Basta E Mi Adore Quando Ha visto Camerun Quanto Sta Il grande Claudio 300k Grande Giocatore Esce Durante La Settimana Tipo Che Dopo Trova Ancor I Dodio Sai Sì Io Cicc Ha spostato Terzino E mette Cancelo Guarda Cloud Marisa Secondo me C'è Stato Prato Mauriz Ma Non Mi ha Convinto Io Sto A giocare Sinistra Paghetam Sto Trova Bene Sennò Ce ne Stanno Pochi Ancora De Quei Giocatori Il Fas Carto Eh Mi Sa Che Non Ne Ha Dato Uno Che Dici Sì Dai Però Tutto Sommato Morto Che Non Inizia A Da Penso Che Se Entrate Riuscite Mamma Pagato Un Cazzo Ho Trovato Henry Boh Magari Esterno Il resto Te Direte No Cioè Per Ora Non Ci Butterai 300 K Così Cioè Sto Vede Proprio Che Il Drop Pare Una Mezza Cagata Bella Martini Io Dall'Icon Eronardigno Vendo Ne Per Fallo Gioca Beh Oddio Trovate Ermi Gli fare Gioca Insieme In realtà Guarda Un po Buono Pure Questo Teoria È uno Dei Migliori Che Abbiamo Trovato Beh 200 K Ottimo Grande Giocata Ma pure Gli 82 A scarto Io Mi Prenderei Guarda Un po Io Ancora Non Sto A Comprare Perché Voglio Apri I Pacchi Solo Per Quello Maga Campbell Ma So Che Dive Ma Veramente Una Roba Una Sfilsa De Pippe Così N'ave Mai Visto Ruben Diasto Non L'ho Provato Perché Ho Fatto Varane SBC Però Secondo Me Tanta Roba Grande Carta Pure Quella Forse Non C'ha C'è Più Dembaran Mamma E Questo Grande Campbell Una Media Vai Vediamo Che C'è Da Come Sa Di Non Saper No Non Penso No Dai Debrago Sanchez Unito Vabbè Ma Impressionante Quanto Facciano Cagare Queste Queste Carte Doppione Pure Oh Cristo Veramente Ma Ma Una roba Shark Che Merda Eh Ho visto Ho visto Icona Media Mi sa Che Non lo vedremo Più Su un Campo Da Carcio Oh Ma Poi Non è Mai Bandiera Non è Mai Shift 5 Mid N'altro Che Gambe Gli Hanno Staccate No Ma Un 90 Più E Un 90 Che era Doppione Madonna Mia Johnny Io Ho uno Dei peggiori Drop Che abbiamo Visto Vediamo Chi ha Trova Io Trovo Zambrotta Mid A febbraio Ma che Cazzo Ce fai Con Zambrotta Mid Ah Vai Tuo gran Coglione Icona media Vai In modo Guardo Sì Sì Siamo tutti D'accordo Peggior Drop De sempre Penso Penso Che siamo Tutti D'accordo Nel dire Peggior Ma che Cazzo Stai Faccio È Forte Questo Boh Sì Vabbè Oddio Secondo me Non è male Ciacchi In realtà Non è Un brutto Portiere Ma io Smaichol Sì Il pick Te costava Mione Gabriele Che pick Mid Prime Sta Buono Quello Te costava Questo 300.000 Hanno tenuto Una cosa Bilanciata Hanno fatto Sali Ovviamente Quando sono Buoni I prezzi Sargano Quelle Categorie Che Che Gioco De Merda Zaccaria Se Ne va Via Quindi Non Conta Più Boh No Io dico Carte Potenziali Che possono Uscire A Titti Inglese La Maledizione Michael Owen Ricca Forse Gli fa Scarto Grazie Bellingham È quello Interessante Che esce Moco La promo Capito Quello È molto Interessante Reina Già C'ha La carta Molti Già C'hanno La carta Moco Non so Se esce Che Ray Renato Potrebbe Prendere Una carta Sua Si Dai Uno Meta Che Dici Cazzo Zidane Angulli Quello Che Cazzo De Eusebio Ronaldo Uno Che Dici C'ha Le gambe Pure Maldi Un Culo C'ha Le gambe Si Di Arda Sto Coglione D'erro Settano Alla Gioca Il Grande Ierro A 71 De Velocità Se Liverpool Dovrebbe Già Sto Due Mi pare Liverpool Poi Come Zola Mid Mi aiuta Tutti quelli Messi Insieme Che ho Trovato Oggi Arrivederci Vai Secondo Account Dopo Il Grande Gullit Mid Demo Collegati Ma C'ho Gli Collegati Ogni Volta Che Trovo La Merda Da Uno Mi Dalla Merda Sull'altro Svanseker Sull'altro Pure Qua Svanseker Della Owen De Qua Owen Questo Papa De Escito Capito Come Per Ditt E Una Cosa Bella Cito Sto De Efficiente In Piedi Escito Il Capo Di I Icona Media Via Mamma La Si Trovavano Ma Un Istana Tira La Fion Istana Tira Vai Pippo Puppo Titolare Questo K10 Gli Overmarts 88 Eh Puraccio Mi dispiace Sul Secondo Sommo Mamma Ma che Gli Fa Che Gli Fa Che Gli Dici Che Ehi Carlos Alberto Mid è buono Non è male Bella Brigata Ballack Aspetta Il Prem Per Comprarlo Grande Grande Brigata Ma La Media Prime Ma come La Media Prime Ma Ti Si è Fatta La Media Prime Ma Anzica Amid Per Trova Amid Destoicob Che È Mezzo Gioca E Prime Era Bella Mina Amid Insomma Io sto Per Comprare Carcola Icona Media Via Ma che Mi ha Scritto Zaghi Forco Schifo Che Schifo Uno Bono Questo Sa Quanto Un 89 Pen Sb C'è Nicona Che Sbocco Pacchetti Con Media Via No Uno L'altro E Ma Ha fatto 500 Mila Di Quello Più Quell'altro Ter Piero Mid Non l'hai Servato Ginola Mbappese Ha un Mione Meno Ha già Fatto 500 Mila Di Bruno Per Ditte Nel Senso Ter Piero Meglio Ma che Solo Ter Piero Io Ermiore De quelle Perché D'altri Era doppioni Di usciti Cazzo Poca roba Però c'è Durante un bel po' Tipo 10 ore Di roba Penso Niente Olanda TT Un coglione Capirai Ermi Der Baby Dici Vabbè Tanto Tanto Almeno Sa regge In piedi Questo Tutto Storto Sa Grande Robin Un bacione Mamma mia Amosalato uno che vale Vaffanculo Fanno da su roba non scambiabile Tu 300 euro A sto punto Ter gioca a febbraio Boh Onestamente C'è giocherei io Non è Boh C'è giocherei Dalglish Eccezionale Eccezionale Buono Da 3 Icon mid Te prego La terza Tagliere Uno Buono Ma che Se Dici Darglish Back To Black Comunque Riprovato Quest'anno Dalglish Si Nera Trigora Mette Vabbè Interbase Mi pare Pi forte Ciao Grande Addormiva Boh Speriamo Bene Vai Icona Medio Io Cancelo 12 C'è Giorginio Di S Capito Speso Un milione Per Se c'è Altra Non Scambiabile C'è Postati Oh Madonna Mia Ok 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 No Dai Ripetano Ripetano La carta No 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 Non 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 Dai Su Niente Fate Fanno Cagare